Professor Sileri viene dal mondo della sanità e accetta la sfida della politica per cambiare che cosa nell'approccio alla sanità italiana? La sanità italiana negli ultimi anni ha visto solamente tagli, questo ha portato a una riduzione della qualità del servizio offerto, vediamo nella generazione ad esempio liste d'attesa interminabili, pronto soccorso intasati, gente che si lamenta perché non riesce a fare nemmeno un'indagine diagnostica, gente che sta male, è aumentata addirittura la mortalità rispetto al 2017, l'età media che si è sempre innalzata nell'ultimo anno si è abbassata, adesso io non so se la causa è il malfunzionamento degli ospedali ma sicuramente gli ospedali non funzionano e non funzionano perché si è tagliato, anziché aumentare quella che è la necessità di spesa pro capite è stata ridotta, questa dovrebbe raddoppiare nei prossimi dieci anni, così come l'età media si innalza, c'è sempre gente più anziana che ha bisogno d'aiuto e se tu fai dei tagli quella gente non troverà una risposta, non ci dimentichiamo che nel 2016 11 milioni di italiani non hanno avuto accesso alle cure, sono rimasti senza cure, questo è un dato drammatico, non è un dato da paese civile come l'Italia ma purtroppo da un paese di terzo mondo. Ecco, nei suoi incontri lì sottolinea anche un po' quella che è la sua esperienza di giovane laureato e specializzato in medicina che però sceglie di andare all'estero perché lì ci sono opportunità importanti, quindi un'importanza anche di investire e cambiare l'approccio alla formazione. È necessaria una formazione più strutturata, i giovani vanno ancora via, i giovani si laureano e il giorno dopo la laurea cercano lavoro da un'altra parte, guarda caso all'estero lo trovano sempre, trovano degli stipendi migliori, trovano una certezza di un futuro, un ragazzo di 30-32 anni che a fine della specializzazione vorrebbe mettere su famiglia, una donna vorrebbe dei figli, un uomo vorrebbe diventare padre, vorrebbe comprare una casa per la moglie e questo in Italia non è possibile, è necessario dare investimenti anche per la formazione, la formazione è parte principale, se tu non formi eccellenza depauperi quello che è il sistema, quindi quella deve essere fatta dentro l'università e anche fuori dall'università con tutti i mezzi disponibili, compresi quelli telematici, che oggi noi probabilmente sottovalutiamo, ma la formazione telematica è fondamentale, così è fondamentale la formazione viso a viso, ma il problema è che in Italia è tutto un po' fai da te in questo momento e la gente decide di andarsene. Per concludere, lei ha avuto un confronto con il vostro leader politico Di Maio proprio sui temi della sanità, sappiamo che tra i 20 punti c'è proprio uno dedicato a questo. Sì, tra i 20 punti del programma di 5 Stelle c'è la sanità con investimenti nella sanità e non dei tagli, investimenti nella sanità significa assumere il personale, formare il personale, dare eccellenza all'interno dell'università e stimolare la ricerca che in questi anni è stata praticamente annichilita, tanto per farle un esempio delle assunzioni il numero di infermieri per abitanti in Italia e il più basso d'Europa. Questo è inaccettabile. Gli infermieri vanno formati, vanno messi negli ospedali, devono supportare quello che è il bisogno del cittadino, così come medici, così come os e soprattutto devi stimolarli anche con stipendi un po' più alti perché ci sono degli stipendi in effetti che sono francamente da fame, inaccettabili per una sanità migliore.